bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi questo è un video speciale fatto perché la pami mi ha detto se non mi apre il baule costruibile non posso giocare a clash royale e quindi non ho capito perché sta parlando al plurale sinceramente ha detto tutto lei ha detto fosse stato per me l'avremmo fatto domani in live con la pami bramava dalla voglia di giocare a clash royale e quindi il video ciao ragazzi quindi diciamo il video di oggi è dedicato appunto all'apertura dei nostri due di lega e vuoi ringraziare qualcuno perché tu sei lega tu e non devi guardare la è qua la webcam non è che sta guardando lei guarda il cielo la webcam è qua e ragazzi ti guardano qua ciao ragazzi e ciao non devi ricominciare la live se guardi qua grande xyno grande va bene ragazzi basta cincischiare poi abbiamo altri quattro baule qui facciamo proprio un video c'è stopeling generale di tutto ma andiamo subito ad aprire il mio baule costruibile di lega 2 vai se si apre così abbiamo lasciato 3.166 di gol questi non li possiamo cambiare con niente 3.100 e 4 skip ragazzi attenzione vediamo cosa cosa sceglierai io non so già cosa scegli mi prendo 60 pisciatelli ragazzi 1.805 pisciatelli siamo arrivati oramai siamo arrivati quasi a livello 12 da quest'estate che li aspetto 3 skip ancora il tuo tro lascio tutto a te amore mio c'è la barba che ci cresce e ci cresce cucurucù vatten fuori vatteni tu 76 estrattori di elizir non mi servono non mi sono mai serviti non mi serviranno mai cosa arriva adesso dai dimmi due cose che possono arrivare non è obbligatoria l'ultima non l'ho trovata e non è una leggendaria l'ultima giusto per dire quello che spiegate assolutamente che qua 7 golem 7 cannon no no prendo i gol anche così almeno li vado a dare poi ai ragazzi quando li chiedono quindi 7 golem per me attenzione vediamo cosa arriva per l'ultima mandata si vabbè ma io cosa gioco a fare a clash che porca mia comunque prendo 8 specchi ragazzi 8 specchi perché lo specchio al 6 inizia a essere molto molto interessante ecco qua ragazzi questo è il mio baule costruibile una merzia proprio incredibile se non per i 60 pisciatelli che mi sono serviti ma non è finita ma non è finita abbiamo qua ah non ho finito la sfida strategica quindi apriamo la sfida strategica 1 180 di gold vai 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 questi si rilascio anche a te vai vai un'orda di sgherri uno spirito del ghiaccio e un bombarolo è tutto uno niente di qua qua è da doveva chiedere le carte che non abbiamo chiesto oggi la fireball doniamo gli arcieri doniamo gli sgherri doniamo tutto non credo guanaway è stato rimpiutato abbiamo 4 4 paulozzi da aprire vai bauletto omaggio vediamo cosa ci riscerva 24 di gold molto bene ancora 11 pisciatelli molto bene ancora 11 pisciatelli e 2 capannine non le uso non mi interessano non mi interessano l'argentino l'argentino 17 di gold per l'argentino la fornace niente di buono nella fornacina i 12 cannon questi li ho usati per un po' li ho usati non mi dispiacciono andiamo ad aprire ancora l'omaggino vediamo che cosa arriva ancora 95 di gold molto bene se trovi una leggendaria nel baule costruibile mi incazzo con un pinguino un goblin cerbottaniere e 12 spiriti del fuego va bene va bene l'ultimo baule poi ci spostiamo tra l'altro potrei fare una partita e aprire anche quello della corona se i ragazzi non hanno fretta tanto sono passati 4 minuti 2 e 11 di gold 11 gang di goblin 13 arcieri vediamo un po' cosa arriva 13 mortai ma che schifo cioè veramente dai dai dentro veloce proprio una partita velocissima farono 2v2 ci apriamo anche quello della corona che così non ci dispiace dai vuoi giocarla tu no perchè stiamo qua fino a pasqua del 2022 no la pappa è brava nelle 2v2 è brava con questo nuovo tronco al 3 andiamo subito subito contro Ayrde Frears eh lo so lo so è vero è vero wasabi subito un'apertura incredibile cosa sta succedendo sta lagando tutto come i pazzi però non abbiamo problemi perchè vedo che qua no invece abbiamo problemi aspetta vediamo bene una fireball via tutto via tutto oh rimane rimane solo un bombardino eh l'ho visto lo kidocas dobbiamo tirare la zap sui vipi sciatelli no li lasciano mangiare così che roba porca miseria i pisciatelli veramente fanno troppo brutto oh double tronco double tronco peccato peccato per il double tronco eh c'hai ragione c'hai ragione andiamo a mettere i goblettini sopra il caballeros ok vediamo se sono abbastanza veloci a tirarglielo giù prima che lui possa giocare altre truppe bene anche il mago di ghiaccio dietro super figo super figo allora facciamo caballeros di tappo anche per noi e moschettiere per loro wow double fireball lui ce l'ha al 10 la fireball grande ce l'ha al 10 peccato solo per questo ma eh facciamo pipistrelli di qua uh che becca balleros uh che becca balleros e anche il tronco ragazzi salva la situa ai 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 double tronco double tronco di nuovo di nuovo riusciamo a difenderci almeno una torre la tiriamo giù per aprire questo cacchio di baule non ce la facciamo non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere un minuto e 26 e ci ha tirato giù la torre a me non interessa vincere o perdere mi interessa solamente riuscire a sbloccare il baule della corona a fare una ehm una vittoria la pises entra la macchina volante non ci credo la macchina volante è giocata proprio così senza preavviso bene la macchina volante via 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 ok il bombardino ok il bombardino i pisciatelli vanno sulla torre non gli fanno praticamente nulla macchina volante cattiva ha allocato la torre 1.800 1.700 no lasciamogli a lui la fireball oh troppo presto troppo tardi volevo dire ok facciamo così e così 49 secondi alla fine ce la potremo ancora fare ce la potremo ancora fare a fare un ingresso violentissimo attenzione gli ingresco di qua ragazzi gli entro di qua gli entro di qua con la combo grinder pisciatelli ok benissimo benissimo pisciatelli safe pisciatelli safe e va a tirare una bella zap sul drago e lo grinder può andare a picchiare ragazzi 30 secondi alla fine 4 e 48 8 e 26 entrambe le torri sono portate a una certa però non mi interessa però non mi interessa fa niente fa niente fa niente 18 secondi lo so lo so adesso facciamo grinder fireball basta solo che gliene tira una basta solo che gliene tira una forza un dio royal giocato alla fine vaio grinder vaio grinder gliene tira uno 5 4 mi ha tirato giù la torre ragazzi ok è libero il baule è libero il baule mi interessava solo quello mi interessava dai 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 vediamo se la portiamo a chiudere addirittura la partita ha giocato un royal proprio come magic card ragazzi oh e qua il mio errore forse invece è buono forse invece è buono andiamo a tirare via col tronco perfetto 2340 e ancora i due luridi che stanno entrando non ce ne frega assolutamente niente dei luridi andiamo con la fireball andiamo con la fireball a danneggiare ci può stare ci può stare oddio ribaltiamo la partita ragazzi la ribaltiamo sul serio oh royal cattivissimo royal cattivissimo e cannonau di sardegna andiamo anche a tirare via quei cosi molto bene molto bezzo molto bezzo è un cazzo aspetta un attimo vai 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 ok 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 1919 19 secondi alla fine ancora secondo me con tronco fireball o grinder ce la possiamo fare ce la possiamo fare se anche lui tira la fire oh mio dio l'abbiamo veramente ribaltata non ci credo double fireball e andiamo a ribaltare la partita guarda che live che video che gli facciamo proprio wow e ora aprile qui di bolle della colore e poi ci spostiamo sul profilo della palmi esatto esatto vai aprilo tu aprilo tu il clicazzare lì in alto perché se ne prendo un'altra 2v2 si è arrovinati 630 di gold 5 skip 3 gemmine benissimo 3 gemmine vai vai aprite questo un cerbottaniere ancora 3 skip 26 pisciatelli ancora ragazzi sono arrivati sono arrivati 48 royal e 7 lapidi e 7 lapidi va bene dai non ci lamentiamo allora ragazzi vi tolgo un secondino il eh sì ma vuoi che gli faccio vedere le mie mail oppure posso passare sul mio no 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 lo facciamo da qua e lo facciamo da qua scusa è inutile che stacco riattacco tu parla un attimo con i ragazzi che entriamo ce l'ho qua ce l'ho qua il tuo entriamo dal tuo entriamo senza dover vedi eh tac ragazzi poi voi scriveteci sotto il video cosa avete trovato che paura è costruibile se avete una leggendaria intanto posso già rimettervi pure il gameplay ragazzi dobbiamo solo fare avete trovato qualche leggendaria dobbiamo fare conferma ti fate per me ti fate per me ragazzi aspetta 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 tu la trovi perché c'hai un culo grande come la capana dei goblin c'hai quindi proviamo a rientrare e vediamo culo come la capana io sono grossa quindi c'ho il culone quindi c'hai il culo grande allora vai attenzione spidanti 2 anche per la pami ragazzi unbelievable shit è tutto tuo guarda lo lascio qua perché abbiamo altro spazio per metterlo grazie ma no là devi guardare qua grazie te lo spengo secondo monitor io se guardi là che hai questo stancato e cosa dobbiamo fare vamonos vamonos 3.029 però però 4 skip anche per la pami ragazzi attenzione subito la scelta goblin lanceri o royal cosa prendi non lo sa prendi i goblin lanceri va bene va bene 3 skip 3 skip ancora attenzione oh 50 gang di goblin o 50 tesla sempre quei goblin la pami la pami e i goblin vanno abbracciato assieme 2 skip niente leggendaria neanche per te puoi prendere 76 giganti ma sarebbe sprecato perché lo porteresti al 10 ma brutto no se li prendi prendi i soldi ma di brutto vediamo quanti te ne dà di soldi oh 3.350 di gold grande e l'ultima sono le epiche sono le epiche che brutti bau e prendi quelle che vuoi fai una conta fai una conta la faccio io macchinina rossa rossa da dove vai a milano quanti chilometri meno male perché la macchina rossa rossa non la potevamo sentire allora ragazzi abbiamo ancora 4 mauli da aprire sono tutti tuoi amore mio vai subito con l'argentino cattiva così subito sei sempre a guardare la webcam mi raccomando non lo schermo in alto una lapide vai 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 vado io vediamo cosa arriva 12 ore di sguerra vabbè le diamo ai taboi queste qua che le vuole lui maule omaggino 1 su 2 vediamo cosa arriva vai vai paullino 99 di gol molto good 99 di gol 11 gol anche questi secondo me potresti cominciare ad usarli e chiudiamo con 2 mini pecca va bene va bene 2 mini pecca cartace in giro intanto per gli ultimi due bauli vai amore mio vai gli ultimi due bauli l'altro maggio che le mancava 99 di gol di nuovo sembra roba ferita questa qua e abbiamo anche vieni cammagellano 2 vai chirie ultimo baule del cestopini ultimo baule del video ragazzi quello d'oro della pami questo va dentro un gran cavaliere 255 di gold vai vai 255 di gold 6 schelestronzi io non mi piace paura e mi piace paura e mi piace paura e mi piace paura dove cavalleros è molto bene 22 luridi vai 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 4 arieti da battaglia faccio una domanda alla pami prima di chiudere la live amo cosa ne dici di portare cacchio di deck che è questo qua dove è il podep scusa anche il cartesino siamo scelta a 4 mila no è stata resettata la stagione vabbè allora che ridere riparti da 4 mila già 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 io non lo so più vabbè ragazzi direi che allora la live può non è la live che il video può finire qua il video può terminare qua scriveteci sotto cosa avete trovato voi mi raccomando se vi piace il nostro video mettete un bel like un super like se vi piace il video e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare adesso è diventato nostro di attivare della campanella per essere sempre aggiornati non so perché ci sono anch'io ah e quindi ho capito vabbè noi ci vediamo presto ragazzi ciao